In posizione avrà tre coaches, i nostri 3 coaches sono tisi e metteranno sul nuovo Devante e domandiamo cosa cercano stasera. Cominciamo con la nostra Elen. Ciao Omar, buonasera, buonasera a tutti. Allora, moi ce soir, je recherche un'entendue une belle voix, che nous donne de l'emotion, mais The Voice, c'est un spectacle. On dirà que ce soir, également une voix qui seduise notre public. Quindi la nostra Elen stasera chercherà una bella voce e siccome il nostro The Voice è uno spettacolo, quindi una voce che seduirà il pubblico. So, our Elen, tonight we don't choose a beautiful voice, she's looking for a beautiful voice and of course a voice to seduce the audience. But let's carry on, continuiamo con il nostro tel director Luca, che voce cercherà stasera? È difficile stasera, eh? Voce, che qua la concorrenza è dura, c'è Madardo, un padù, c'è un comandante, quindi te lo dico io stasera. Cercheremo una bella voce per vincere, cercheremo di vincere per questo meraviglioso pubblico di Costa Magica, faremo il possibile. Notre chef commissaire Luca, il va choisir un bel voce per Gagnè e per notre pubblico. Our hotel director Luca will choose a voice, a beautiful voice of course, and as well to be beautiful for our audience. And let's see our captain, Paolo. Paolo? Ricorda, sono sempre comandante. Lo so, lo so, solo per lo show. Cerco la voce che mi sappia colpire, mi faccia sentire qualcosa dentro, e poi la mia solita strategia, sceglierò la voce che dici. Perfetto, so our Paolo, il capitano, will choose a voice that gives emotions, and of course you will use the strategy to choose this. E ben d'azio messiere, il nostro comandante Paolo, il va choisir l'assessuale Anvoa, che va a doner desemossioni, e naturalmente va a utilizzare su strategia. Bene, grazie per i vostri commenti, chi sarà il vincitore, chi sarà il vincitore, chi sarà il vincitore, chi sarà il vincitore, chi sarà il vincitore. I wish buona fortuna a tutti, buona fortuna a tutti, ma come diritto, chiediamo ai nostri coach, turn your chairs. Con una magra che va a notire. Un augurio che staccia, un augurio che. Un augurio che staccia. Un augurio che staccia, un augurio che staccia. Grazie. 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 Stoppa i voti. Bene, finiamo con i voti. Aspettiamo che arrivi il risultato. E in questo momento, signore e signori, le disegentrano in medans. Se le sei, vi chiedo ancora un fortissimo applauso. Tre forti. Siamo pronti con il vincitore. Bene, signori e signori. Con il 55% dei voti. No, no, no. Siamo pronti con il 55% dei voti. No, no. Siamo pronti con il 56% della votazione del nostro pubblico. Le gagnanti. Il vincitore. Il vincitore. Il vincitore. Il vincitore. VITO! 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 Grazie a tutti